Ciao Patrick, benvenuto da me. Oggi siamo su questo nuovo canale Telecruci2 perché l'altro canale per una questione che ora hanno capito l'hanno dovuto chiudere, non chiudere nel senso che non si possono vedere i video esistenti, ma l'hanno così impedito di fare video fino a 16 dicembre prossimo perché secondo Costoro parlare di certi argomenti tipo migrazione e disagi che si comporta, i problemi che ci sono, pare che equivale a essere razzista, nazista, fascista, una cosa assurda, io mi domando a questo punto che utilità può avere YouTube, nel senso che se non si può parlare di tutto in maniera educata e libera allora vuol dire che qua le cose veramente sono molto gravi. Quindi io faccio un appello a chi mi ascolta di aiutare una piattaforma e di andare su un altro media in una piattaforma propria per poter dibattere tranquillamente in modo onesto ed educato senza creare problemi di questo genere perché per me creare un canale sospeso per poi fare un altro e richiamare tutto è veramente deleterio. Ci ho detto comunque, ci ho detto, in attesa di sviluppi che sto aspettando per altre cose che poi darò in un prossimo comunicato, io intanto ti do la parola carissimo Patrick, nel momento che ho visto chi ha visto gli amici che siamo in onda su questo canale, tu parla, ti presenti e introduci l'argomento con i dovuti vogli. Prego, a te la parola. Ok, grazie Ubaldo, buon pomeriggio Ubaldo, buon pomeriggio a tutti. Oggi, allora io sono il Maggiaro, molti di voi mi conosceranno per il canale YouTube, soprattutto per YouTube, tratto di notizie censurate nell'Ovest Europeo, cerco di portare agli occhi e alle orecchie degli italiani, dei cittadini dell'Ovest Europeo, parlo in italiano e dunque degli italiani, di tutte quelle notizie censurate in modo lieve o totale dai media allineati, globalisti, possiamo dirlo, globalisti, in quella strana alleanza tra neomarxisti, ogni volta che pronuncio questa parola scattano le ire di tutti, e ultraliberali progressisti, come Soros, e oggi parleremo proprio di questo personaggio molto controverso, alcuni guardano a lui come a Gerd Schoros, perché il suo vero nome è Gerd Schwarz, nasce come Gerd Schwarz, poi in Italia è conosciuto come George Soros. Ora, un personaggio controverso perché? Perché molti, i globalisti, lo vedono solo come filantropo, come benefattore, come un grande magnate che finanzia il bene dell'umanità nel segno della società aperta, del progresso, dei diritti, mentre altri, come per esempio credo anche tu Ubaldo e me, il medesimo, come uno speculatore finanziario che ha guadagnato molti soldi, legittimamente si può dire, ma creando dei problemi sociali enormi, ricordiamo i suicidi in molte nazioni degli imprenditori nel sud-est asiatico negli anni 90, dove Soros ha completamente portato indietro intere economie, ha affossato monete nazionali come il Bhatt in Thailandia e in altre nazioni simili e ha causato quindi dei danni sociali enormi, tutto in nome del guadagno, perché come dice lo stesso Soros e lui stesso in un suo libro, lui ha scritto più di 11 libri, ha scritto circa 12, va da memoria, e più di 200 saggi sulla filantropia, la sociologia, lui ha detto di molti è il filosofo vivente più influente al mondo, perché? Perché ha i soldi per realizzare le proprie visioni filosofiche, sociologiche, realizzare quella società aperta, quella società aperta di cui oggi in Italia, nell'Ovest europeo vediamo le conseguenze, immigrazione di massa, legale o illegale che sia, che va a sostituire gradualmente la popolazione indigena, in questo caso il popolo italiano, nessuno parla sui media allineati o nei media allineati del grande tracollo demografico dell'Europa, nessuno tra i politici in Italia, nell'Ovest europeo parla seriamente di misure forti, di spendere quello che serve per aiutare le famiglie, aiutare le famiglie a cercare un futuro per l'Italia, per i popoli europei, altrimenti relegati a una minoranza nel mondo, a un tracollo non solo demografico, la demografica significa anche economia, perché essere grande mercato consumatore, viviamo nel capitalismo consumista, che ci piaccia o no, significa essere importanti e potenti, basti guardare la Cina e gli Stati Uniti, che hanno come grande competitor nell'economia globale gli Stati Uniti d'Europa, quelli che vorrebbero a livello federale, quindi superare la nazione, surclassare lo Stato nazionale come vuole Soros, come vogliono i globalisti, a favore di una unione sovranazionale, un potere sovranazionale che gestisca dall'alto in maniera poco democratica ciò che è, come si può dire, le decisioni importanti, come per esempio permettere di entrare, permettere l'accesso a milioni di clandestini, di gente che arriva illegalmente sul suolo europeo e considerare le frontiere come una cosa anacronistica, superata, come avviene in Italia a Lampedusa nel sud, ma anche con la rotta balcanica dal Friuli Venezia Giulia, che passa proprio per il confine tra Ungheria e Serbia, Ungheria dove mi trovo. Altri temi sono l'LGBT, altri temi sono le cosiddette minoranze oppresse e qui ritorna l'unione tra Soros e il neomarxismo, tra l'ultraliberalismo globalista e il liberismo a livello economico finanziario di Soros, che finanzia molte volte, che finanzia molte volte, che supporta politici come in Ungheria e anche in Italia, che vengono dal comunismo, dall'estrema sinistra, che vengono da una cultura marxista, o meglio neomarxista, che sostituisce l'uguaglianza, l'obiettivo dell'uguaglianza per chi sta peggio, per i lavoratori, per i proletari, alla tutela, tra virgolette, delle pseudominoranze oppresse dalla società bianca, patriarcale, occidentale, cristiana, che è vista come lo spauracchio per i globalisti oggi. Prego. Continuo? Sì, sì, prego, prego, vai, vai, dopo ho fatto domande, vai pure. Ok, io parlerei della vita. Prego. Come abbiamo, grazie, come abbiamo detto, Soros nasce a Budapest nel 1930, ha compiuto poco fa 90 anni, si è distinto, comunque nasce in una famiglia ben agiata, di fede diversamente cristiana, non posso dire quella parola con la E, altrimenti ci censura subito il nuovissimo canale, Telecroce 2, e che cosa fa? Vive i suoi primi anni in una famiglia non particolarmente religiosa, tutt'altro, una famiglia che per scappare dalle rinfie dei nazisti, della dittatura, perché i nazisti nel 44 occupano Budapest, che cosa va? Cambiano nome da Schwarz a Soros, Soros in una traduzione così potremmo dire che dall'ungherese significa di continuo, consecutivo. Comunque, al di là di questo particolare, questa famiglia riesce a farlo salvare dalla deportazione verso i campi di concentramento, riesce nel 56 a scappare, questo è importante, a Londra, la London School of Economics, si laurea, riesce a studiare, perché comunque è una famiglia molto benestante, diciamocelo, e in questa università incontra il suo grande maestro, l'ispiratore della teoria della società aperta, cioè Karl Popper, e qui è importantissimo la società aperta e i suoi nemici, un test, un'opera del filosofo Karl Popper del 1945, molto, molto importante perché ispirerà, come ho detto, la sua Open Society Foundations, quella che ha di fatto in un modo tentacolare un'influenza su tutta la politica locale e nazionale, potremmo dire europea, che va ben al di là della semplice filantropia, ma ha degli obiettivi specifici, che è quella di scardinare una determinata società che ha delle radici come quelle europee, dei popoli europei, quindi scardinare il passato, questo rimanda un po' al maoismo, comunque il suo fine è cambiare il mondo, come dice lui stesso, cambiare il mondo è molto più difficile di fare soldi e lui comincia a fare soldi attraverso la sua carriera finanziaria nel mondo speculativo da diverse banche d'affari, inizia con il suo fondo al fine anni Sessanta, il Quantum Fund che in precedenza, quindi in questi anni si chiama ancora Double Eagle, doppia aquila, un fondo che apre con Gene Rogers, un altro speculatore, riesce a fare carriera proprio con le sue conoscenze pregresse, sviluppate, lui si specializza nella comunità del carbone e dell'acciaio, quindi in degli studi particolari sui mercati europei, degli studi che lo portano a riuscire a creare successivamente dei fondi di copertura, i cosiddetti hedge fund, cioè delle società che riescono, dei fondi, delle associazioni che riescono, delle banche d'affari in realtà, a diversificare il portafoglio finanziario dei clienti privati, degli investitori e così riuscire a fare dei guadagni ottimi. Lui comunque sulla versione ufficiale del suo sito opensocietyfoundations.org ma anche nel sito personale george-shoros.com non si parla per nulla dei lati oscuri della sua vita, della sua vita in quanto non viene detto per esempio la sua condanna nel 2011 in Francia, la Corte d'Appello, per quanto riguarda l'accusa di insider trading, quindi di aver sfruttato delle conoscenze, sfruttato il vuoto di privacy, la non garanzia della legge per riuscire a guadagnare sopra e far guadagnare i suoi clienti per quanto riguarda Societe Generale che è la più grande banca che proprio in quegli anni, si parla degli anni 90, stava diventando privata sotto Chirac. Comunque non si parla, come ho detto all'inizio, delle speculazioni nel sud-est asiatico negli anni 90, non si parla del 16 settembre 1992 che è una data molto importante per l'Italia, gli italiani, tu Ubaldo te ne ricorderai molto meglio di me perché io non ero nato evidentemente, Soros in quel mercoledì nero che cosa fece? Fece svalutare la lira del 30%, sempre 50 mila miliardi di lire, una cosa spaventosa, c'è anche Ciampi che era il governatore della Banca d'Italia e tutta una cricca che c'era lì che sarebbero da galera se fosse stato un paese serio, purtroppo l'Italia non è un paese serio guidata da una governanza assolutamente asservita a interessi antitaliani che riferisce al potere che sta nell'Oltre America, quindi la cosa è chiaro che non potrebbe mai e poi mai sistemarsi fino a quando il popolo italiano non diventa consapevole di come stiamo e di tante altre cose che purtroppo non sa per motivi che il mainstream è in mano a quelli che poi... a gente simile... che sono tutt'altro che vero insomma, tutto qui, prego. Sì, anche perché l'Italia è un paese difficile anche dal lato economico-finanziario perché allora come oggi ha dei problemi di moneta, ha dei problemi di svalutazione, rivalutazione, moneta straniera, ha dei problemi di, come si può dire, di debito pubblico e quindi di bilanci e questo ha portato... che cosa ha sfruttato Soros? La Bundesbank aveva detto la Deutsche Bank, scusate, aveva detto di non essere più disposta ad aiutare la lira da un possibile tracollo. Soros non ha creduto come altri investitori perché lui ha mosso soltanto 10, si fa per dire 10 miliardi di lire, scusate, ce l'ho scritto qui dietro, se lo trovo a breve, ha mosso 48 miliardi di dollari, ne ha mossi più di 10 miliardi di dollari, ha lo scoperto, ha venduto valuta debole per comprare valuta forte, quindi ha comprato marchi. Marchi che ricordiamolo, i due marchi Est-Ovest, proprio in quegli anni 92, con la riunificazione della Germania, delle Germanie, che cosa è successo? Che il marco si era svalutato, c'è stata una svalutazione del 10%, degli interessi in più del 10%, i tassi di interesse del 10%, che fa diventare ancora più allettante il marco per gli investitori e quindi le altre monete europee, anche il franco francese, quindi la lira e la sterlina, si depreciano, depreciandosi, sono di fatto nelle grinfie degli speculatori, speculatori come Soros, che Soros è stato il principale con il suo Quantum Fund, lui che è un appassionato di meccanica quantistica, ha permesso che cosa? Ha permesso quello che conosciamo, una manovra italiana di più di 90 mila miliardi di lire è una terribile conseguenza, la lira e la sterlina uscirono dallo SMED, dal sistema monetario europeo, che era stato istituito nel 79, che poi che cosa in soldoni si risolse con una flessibilità dei tassi di cambio rispetto al marco dal 2,25 per tutte le altre monete europee, al 15 per cento e quindi un'ulteriore svalutazione della lira, il resto è storia che tu Ubaldo conosci meglio di me perché l'hai vissuta evidentemente. Esatto, esatto, mi ricordo molto bene allora quando questo accadde, allora non percepì bene la gravità della cosa perché insomma certe cose non lo potevo sapere ma dopo capì quello che successe è veramente, è bello che uno dei responsabili di quello che fece, permette questo gradito atto finanziario contro l'Italia, addirittura due anni dopo presiede la Repubblica, cioè Carlo Azzeglio Ciampi, tanto per farci capire, no? Tutto qua, prego. Poi che cosa, in soldoni perché ci interessa il 92 al di là della storia? E Soros sfrutta come c'è scritto qui il trio inconciliabile, cioè non possono coesistere tassi di cambio fissi, cioè con dei valori che mutano all'interno di un determinato tasso di flessibilità, perfetta mobilità dei capitali e quindi degli investitori, degli investimenti, cambi fissi come ho detto, autonomia della politica monetaria, quindi simile all'euro di oggi, quindi Soros che cosa fa? Sfrutta, è a favore dell'Unione Europea e della moneta unica, ricordiamolo, gli appelli nel 2011 per salvare l'euro, per cercare di guadagnare, guadagnare questo è il suo fine, guadagnare per cosa? Per cercare di influenzare le istituzioni democratiche come il Parlamento Europeo e riuscire a far passare determinate decisioni, determinate linee politiche per quanto riguarda l'immigrazione, per quanto riguarda la politica. Ho letto che che Soros in questi giorni ha annunciato, lo annuncia lui su Twitter normalmente, tranquillamente, 50 milioni di dollari nuovi di zecca per la campagna elettorale a favore dei democratici per Biden in America e 220 milioni di dollari per l'uguaglianza raziale, di cui 150 per gruppi come Black Voters Matter Fund, Equal Justice Initiative e 70 milioni per sovvenzioni locali per riformare la polizia, il famoso motto togliere fondi alla polizia o abolirla in quella scia di neomarxismo che conosciamo con Black Lives Matter, le vite ne ricontano, è antifa, antifa, cioè quel movimento anarcho-comunista che è molto forte anche in Germania e in Europa. E poi la giustizia sociale, penale, la giustizia penale, riformare le carceri, svuotare le carceri dei criminali che hanno compiuto dei gravissimi crimini. Comunque il supporto a BLM e antifa non è riconosciuto direttamente a questi due gruppi dalla famiglia Soros, da Giorgio, cioè il padre, Alex, Alexander, il figlio, l'altro figlio, Jonathan, che sono i due figli dei cinque più attivi politicamente. Poi, un'altra cosa che ho letto, dico alcune cose più recenti, per rendere più interessante la trasmissione, chiamiamola così, un anno prima del coronavirus compra, lo stesso Soros, delle azioni in Vuxi Pharmatec, che ha dei laboratori farmaceutici proprio vicino al mercato di Wuhan, a circa 40 chilometri, e compra azioni in Grifols, una ditta catalana che si occupa di produzioni di prodotti sanguigni, plasma, per circa 38 milioni di dollari. Questi sono dati che vengono riportati da un sito ungherese che si chiama Twisfalcioport, un portale che raccoglie tutto quello che la stampa mondiale, ma anche ungherese, riesce a capire sui movimenti finanziari dello speculatore, tutt'altro che magnate, tutt'altro che filantropo in queste cose. E quindi suona strano che un anno prima dell'epidemia uno speculatore in modo simile a Bill Gates, a qualcun altro, riesca a prevedere determinati fenomeni. Comunque questo c'entra poco, però c'entra con la vita, in quanto tutto è importante per capire le varie sfaccettature di questa figura controversa. In Ungheria, voglio dire qualcosa sull'Ungheria, Soros ha appena dato, annunciato di dare più di 2 milioni di euro, più di 700 milioni di fiorini, fiorini ungheresi, alla stampa indipendente, cosiddetta indipendente ungherese, ovviamente di sinistra globalista, liberale, liberali sinistri. No, siamo capiti. Sì, quindi contro, per cercare di vincere anche e rompere l'ultimo, o almeno uno degli ultimi baluardi nazional conservatori in Europa contro la politica globalista come il governo ungherese, il governo polacco, anche in Polonia più dell'80% dei media è comandato da stranieri e soprattutto tedeschi e quindi va avanti la stessa propaganda globalista, la stessa pravda, verità, la stessa censura che colpisce il tuo canale, che ha colpito due dei tuoi tre canali e il mio, su YouTube, perché fanno parte tutti dello stesso. No, effetto, purtroppo YouTube non è più una cosa seria, cioè non è più… Libera. No, ma io capisco uno che magari dice fasi pesanti, offensive e va bene, ma quando uno può dire le cose come stanno e denuncia quello che veramente c'è e ti censurano a prescindere, allora significa che i proprietari di questo media qui sono complici di quello che accade, è molto semplice, molto semplice o no? Dico bene, Patrick? Sì, perché basta nominare per esempio Soros e dire i suoi finanziamenti, milioni e milioni di dollari al Partito Democratico, a politici locali in America, che Fox News, che è una televisione che dovrebbe essere in America conservatrice, almeno moderata, di centrodestra, anche lì stanno zitti i conduttori e a zittisco, tolgono il microfono, oppure un colonnista del Chicago Tribune, che è un importantissimo giornale americano, viene licenziato per parlare, per fare delle indagini, per raccontare quello che succede dietro alla politica, per cercare di capire quali sono i movimenti finanziari, cercare di capire dove va il mondo per questi grandi filantropi, grandi filosofi che cercano una società diversa da quella del passato, che vogliono sradicare tutte le radici nazionali. Loro vogliono andare oltre la nazione, loro vogliono sradicare tutto quello che è collettivismo, vogliono l'ultra individualismo. E uno degli obiettivi principali della sua Open Society Foundation, sin dagli albori degli anni 90, quando è nato, il 91-93, è proprio a partire dal ex blocco dell'est di Varsavia, cercare di sradicare tutti i collettivismi, che siano di estrema sinistra comunisti, come allora lì l'Unione Sovietica, oppure che siano di destra, di estrema destra. Quindi cercano una società evidentemente liquida, una società debole, divisa, che può reagire in nessun modo ai tentativi di guadagni ancora più alti di speculatori finanziari, che se ne infischiano delle minoranze in realtà, che se ne infischiano degli oppressi, ma cercano un ulteriore guadagno, ulteriore potere. Secondo me sono dei megalomani. Sì, sì, infatti, infatti, infatti. È così purtroppo, questo è il punto. Ai noi, ai noi, ai noi. Ma la cosa è che tutti questi signori qui fanno quel caldo che si vogliono e non c'è nessuna autorità politica che ci mette un freno. Questo significa che la politica è assoggettata, chiaramente... No, infatti, la legge, il pacchetto di leggi Stop Soros, fatto nel 2017 dal governo ungherese di Orban, per tassare le donazioni, le ONG che operano dall'estero, straniere, per motivi umanitari, tra virgolette, in Ungheria, a livello nazionale, tassate il 25%. La trasparenza, che vuole la trasparenza dei finanziamenti esteri è subito stata criticata dall'Europa, minacce di procedura di infrazioni contro l'Ungheria. Non si possono avere delle leggi per la trasparenza di queste ONG, per la trasparenza di chi sta dietro a queste ONG. Ricordiamolo che la Open Society, la società aperta di Soros, è un gruppo di fondazioni che, come una piovra, abbraccia, attraverso attività di lobbying, notizia di pochi giorni fa, che ho riportato nel mio canale, Gerald Knauss, questo è il nome del più importante lobbista a Bruxelles, nell'istituzione dell'Unione Europea, a quanto riguarda Soros, collega la European Stability Initiative, questa iniziativa, questa istituzione europea per l'allargamento nel sud-est dell'Unione Europea, gli stati membri come la Serbia, la Macedonia, eccetera, eccetera, per fare cosa? Perché Soros ha il legame in questo, perché Soros vuole permettere un arrivo ancora più massiccio dei clandestini attraverso la rotta balcanica, dalla Turchia alla Grecia e via via risalendo la rotta balcanica all'Ungheria, all'Italia, al Friuli, Venezia e Giulia, all'Austria e al Nord Europa. Quindi tutti i discorsi, quando si parla di Soros, tutti i temi di attualità sono ricollegabili, c'è una sorta di grande mano che lega i fili come una marionetta di quella che è l'Unione Europea, di quelle che sono le istituzioni sovranazionali come negli Stati Uniti. Abbiamo visto adesso cosa sta succedendo oggi, per esempio con la morte purtroppo del giudice progressista della Corte Suprema, subito Soros sta cominciando e tutti i vari democratici, perché loro si dicono democratici, almeno nel Partito Democratico, ma che in realtà sono sempre più radicalmente spostati a sinistra, hanno paura che Trump possa eleggere nella Corte Suprema e quindi cambiare l'equilibrio della Corte Suprema dal lato conservatore. E quindi Soros avrà sicuramente un ruolo nell'opporsi alla nomina di Trump. Ah beh sì. Assolutamente. Infatti lui non vuole. Assolutamente no. E io non capisco come non lo vuole, perché questo Trump poi, questo Trump a mio avviso non l'ha detto giusta, perché è, come dire, è un qualche cosa di, è una che sta al gioco secondo me, perché i fin dei conti, i fin dei conti per essere precisi, ho letto una notizia cosa severa, è che lui sarebbe favorevole alla vaccinazione di massa negli Stati Uniti. Caspita, vaccinare 230 milioni di americani, madonna. È un'opera massodontica. No, di più, ci sono 330 milioni, 320 milioni di americani, Stati Uniti d'America fanno. Sì, sì, sì. E quindi vuol dire una cosa, non lo so io, cioè... Un'organizzazione importante, anni, forse anni. Sì, sì, ma qui siamo veramente il buono. Sì, però, infatti, quello che voglio dire io... Un circolo di pazzia, di, come dire, di autonizionismo, che è qualcosa che nella storia io non mi ricordo di averlo mai sentito. Non l'abbiamo mai vissuta una cosa simile. No, penso di no. No, credo di no. Comunque, quello che fa nella politica la differenza sono le cose concrete, come si trasforma il paese, la nazione. E quello che posso dire io, che l'avversione, fino adesso, qui in Ungheria, dove vivo, alla politica di Soros, dell'Unione Europea, di Orban, non a livello economico, io parlo a livello demografico, con l'aiuto alle famiglie, con il rispetto dei confini a sud e non solo, ha portato a mantenere quella nazione dove io venivo da bambino in vacanza. Non è cambiata per nulla. Oddio, è cambiata che è migliorata economicamente. Ma a livello demografico, non è come l'Italia all'ovest europeo, che in un giro di 20-30 anni è cambiata radicalmente nella società. proprio per volere di persone che hanno delle idee come Soros, dei politici. E quindi uno può criticare, io non conosco l'America, non conosco Trump, non posso dire, però l'America è completamente diversa da questo lato, dal lato demografico dell'Italia e dell'Ungheria. Non c'è una società omogenea, sia una società bianca che sta rapidamente scemando in America. Un paese che entro il 2050, circa, avrà come lingua la lingua più parlata lo spagnolo e non più l'inglese. Quindi ci sono dei cambiamenti. Sì, in Italia, in Italia, in Italia del sud, lo spagnolo addirittura viene usato tutti gli inglesi in certi stati, tipo Florida, per esempio, lì, l'inglese. California. Sì, California, addirittura poi l'inglese sta soccombendo allo spagnolo. voglio dire, siamo proprio a questo livello qui, per non parlare… Alla fine dell'epoca. Sì, sì, c'è nel senso che se l'umanità non si rende conto di ciò che accade, va incontro all'autodistruzione totale, cioè, specialmente la civiltà occidentale, cosiddetta, europea e nordamericana, già un secolo è passapà, un secolo fa, anzi, Oswald Spengler nel suo tramonto dell'Occidente lo disse chiaramente, cioè, anticipò questi tempi con un secolo di… diciamo di… un secolo prima, voglio dire… E anticipo. che ha preso dall'analisi come le cose le bevesse oggi… Un profeta, un vero profeta. Sì, sicuramente, sì, concretamente è un profeta, sì, perché ha parlato di cose concrete che oggi succedono, per esempio la propaganda ha anche ammeticciato, cioè che l'uomo bianco sposa quello di colore e viceversa… Questo fa parte della società aperta di Soros. Sì, e poi addirittura Sarkozy, anni qualche anno fa, l'ex presidente francese… Di origini ungheresi, anche lui. Sì, sì, anche lui esattamente, anche lui è un ungheresi, appunto, anche lui come Soros praticamente, ha detto che voleva rendere obbligatoria che uno, diciamo di bianco, sposasse per legge modicolore e viceversa modicolore… Di questa pazzia. No, ma dico, qui siamo veramente alla pazzia, cioè qui certe cose devono far pensare male, capisci? Però queste cose non succedono da questa parte dell'Europa, al di là della ex cortina di ferro. Io ormai, riflettendoci, sto pensando che si sta riformando una cortina di ferro non materiale tra Centro Europa, Vicegrad e l'Ovest, ma etica, di morale, cioè accendendo una televisione, un episodio, un esempio materiale, accendendo la televisione, le pubblicità sono l'opposto rispetto a quelle italiane, perché io guardo la televisione italiana, francese, spagnola, ma non si punta più, si sta togliendo dai progetti, i vari progetti di vita dei giovani il tema famiglia, non c'è più voglia di fare figli nell'Ovest europeo, non c'è solo un problema economico, la crisi in Italia, sappiamo il lavoro e io lo so bene, ma è anche soprattutto una questione culturale, stanno modificando attraverso una propaganda che va avanti da decenni anche nelle università italiane, che conosco, il tema del futuro, una società che vive nel presente, è l'opposto di quello che si vede in Ungheria, io alle fermate dell'autobus in televisione vedo delle pubblicità per la famiglia, con delle famiglie numerose, almeno tre figli, si vede la voglia di futuro, la speranza nel futuro, quello che l'Italia ha perso. Sì, è vero, è vero, ma guarda, io vorrei dire un'altra cosa, questo che tu dici, non viene sull'Ungheria, viene anche in Russia, per esempio, anche in Russia, io ti dico una cosa, io non sono mai stato in Russia, ma sono stato in Georgia, la Georgia è appartenuta fino a 20 anni fa, no 30 anni fa, scusa, ha appartenuto fino a 30 anni fa a quello che era l'URSS, c'è l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Io ho capito una cosa, ho capito che prima lì c'era lo stalinismo e parecchi dell'Est che poteva allora scappava da noi, no? Lo so bene, per la mia famiglia materna. Appunto perciò. Adesso sta succedendo l'opposto, cioè noi abbiamo importato lo stalinismo di ritorno nella comunità del governo europeo, che impone leggi che Stalin non sarebbe nemmeno sognate, per quanto è horrible, perché per me il vero dittatore sono stati due, Stalin e Mao Zedong, quelli sì che possiamo chiamare dittatore a confronto, Hitler era un agnellino, era un agnellino a confronto di questi due qua, voglio dire, lo dicono i fatti, non ne lo dico io, cioè per quanto sia detestabile qualsiasi regime che vieta o limita la libertà del cittadino, ma Stalin e Mao sono stati dei maestri, da virgolette in assoluto, e hanno fatto capire che significa fare dittatore. Tant'è vero che ho detto che se noi, i nostri Mussolini, che noi chiamiamo erroneamente dittatore, in realtà nei fatti poi non lo era, se avesse avuto un decimo, un centesimo della cattiveria di Stalin e di Mao, l'Italia non avrebbe fatto la fine che fece 80 anni fa quando entrava in guerra. Tutto qua. E un dato di fatto non è la mia invenzione, oppure una mia così comoda presa posizione così nel nulla, nell'aria, no, 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 è un dato di fatto veramente oggettivo che chiunque potrà constatare se va a fondo delle cose come deve andare. Quindi noi europei praticamente ci siamo riportati le norme che c'erano prima nell'URSS sotto Stalin. Sì, vorrei dire una cosa su questo. Un giornale ungherese, il più importante conservatore di destra, Modior Nemzet, ha parlato proprio di Europa come di sistema Brezhnev, la dottrina Brezhnev. Cioè, non si può, nessuno Stato membro che è inferiore di importanza nella loro testa all'Unione Europea, quindi all'organizzazione sulla nazionale, può deviare dalla dottrina ufficiale, come avveniva nell'Unione Sovietica. L'Ungheria non può deviare per quanto riguarda l'immigrazione, deve essere punita o espulsa addirittura, come molti dicono. L'Italia vuole fare debito pubblico, vuole uscire dall'euro, mettiamolo, cosa che io non credo possibile con questa classe politica. Allora la puniamo, oppure mettiamo un governo europeista a comando, la stessa cosa la vogliono fare con l'Ungheria. Non si può deviare dalla linea ufficiale e questa dottrina Brezhnev è guidata proprio da personaggi controversi che hanno le mani dappertutto nelle istituzioni europee, nella BCE, eccetera. Diversi commissari europei, vice presidenti della commissione come Timmermans, ex presidenti come Juncker, erano molto e sono molto amici di Soros padre e Soros figlio, Alexander. Sì sì, ma infatti tutto il gruppo del Parlamento europeo, da Juncker e tutti quelli che sono lì a Draghi, sono tutti sotto certi poteri, di cui Soros è un uomo di punta, dice, hanno questi poteri che controllano e fanno fare le politiche che loro vogliono. Ma io penso che anche un deficiente se ne accorga, no? Eh ma chissà, perché io ne leggo di tutti i colori nei commenti al mio canale, negli altri canali come il tuo, su Twitter. Twitter lo lascio stare perché è veramente ormai un contenitore guidato da quella ideologia globalista. Ormai tutte le piattaforme più importanti sono nelle loro mani. Basti pensare al tribunale di Facebook, tra virgolette tribunale, istituito da Zuckerberg, dal fondatore, dove ci sono degli uomini legati molto, molto a Soros, come uno dei fondatori della CEU, della Central European University di Soros, che stava tutta a Budapest, adesso è rimasta su una piccola sezione. Persone di sinistra, persone che sono lì a fare i censori su Facebook, persone che magari leggono una notizia, un canale, un post, un video di qualcuno, basta che c'è scritto viva Trump, viva Orbano, viva Salvini, viva le destre, a basso le sinistre, e cancellano. Sì sì, ma infatti tutti i censori sono tutta questa gente qua reclutata da Zuckerberg e i suoi soci, perché anche YouTube è di Zuckerberg, non dimentichiamo, anche YouTube appartiene lui, insomma, come Google, cioè tutti loro, quindi queste piattaforme, spero che presto spariranno e che si creano... Ah, la perdura. No, 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 beh, nel senso che creandosi piattaforme indipendenti, molta gente abbandoneranno, perché qui tu fai una cosa e ti bandano, ti censurano, per solo chi dice delle notizie precise, senza offendere nessuno, viene censurato, cioè nel senso che certe cose te le proibiscono di dire, allora no, io non ho capito una cosa. Una cosa, loro poi si dicono liberali, loro sono i liberali tolleranti, noi siamo i propagandatori d'odio, noi siamo... Esatto, odio così, infatti quando ti arrivano le notifiche di YouTube, abbiamo trovato in i suoi video motivi di incitamento all'odio raziale, ma questo è scema, che caccio mai, poi da me, guarda, io non ho mai imparato a rialzare da me, ho parlato di fatti che succedono e che certe persone determinano certi fatti e io li denuncio come tanti altri. Ma non puoi parlare neanche di cambiamenti demografici, della bassa natalità, dell'immigrazione? No, no, sono cose proibite, loro... C'è roba da URSS, Unione Sovietica, te l'ho detto, roba da stare. Infatti, non so se hai visto il video intervista degli anni Ottanta di Yuri Besmenov, ex collaboratore giornalista del KGB, sovietico, che parla proprio del lavaggio del cervello dell'Ovest Europeo e del Nord America, già allora... Scusami, vorrei che mi mandassi il link di questo giornalista russo, che lo metterò poi nel... ti ricordo questo video, ti sarei molto grato se tu me lo mandi, anzi lo puoi postare nel video che ho qua io, che adesso facciamo, che voi non, dopo un po', finiamo, quindi... Io vorrei che questo venisse pubblicato e far capire appunto come l'Europa sta diventando... E qual è il rimedio, però questo è importante. Sì, sì, ci sono delle analogie, non è che l'Europa è l'URSS, questo... No, ti assomiglia. Tende a, mettiamola così. Qual è il rimedio, secondo Besmenov, che se ne intende di propaganda, di Pravda? Era l'educazione patriottica, quella che attraverso i decenni a venire possono ribaltare la situazione, almeno nei giovani, perché chi è cresciuto, come la mia generazione o quelle presenti, con una certa propaganda nelle scuole, nelle università, non cambierà più idea, non ce la fa neanche a vedere i fatti, a capire la realtà in maniera oggettiva, i fatti, non riesce più a criticare la realtà. Esatto. La mia generazione... Esatto, esatto, è vero, è vero, è vero, è vero. Terribile. La mia generazione è quasi tutta, non dico tutti per carità, in Italia, incapace di ragionare sui fatti. Guarda, ti dico una cosa, non è solo la tua generazione che non riesce a ragionare sui fatti, ho contratto equaitaneo come te, caspita, svegli, devo dirti, uno di questi... ci sta, uno di questi qui ci sta anche seguendo per dire, perché li ho informati sul fatto che ha avuto un incidente di YouTube che aveva bloccato il canale, c'è un guardo croce appunto, e quindi ho avuto primo guardo croce 2 per avere, insomma, per continuare. Ma ti dico che anche gente che, di generazioni passate come te, purtroppo hanno perso il senso critico della realtà, questo è un noto di fatto, quindi è veramente grave, perché fin quando non ci sarà un media che farà quello che dovrebbe fare, allora la cosa si aggraverà ogni giorno che passa. Comunque ti riferivi? Di piattaforme alternative a questo sistema ci sono, ci sono, bisogna propagarle di più, così YouTube comincia a perdere call, perché già alcuni YouTuber che io conosco hanno una piattaforma alternativa, stanno andando lì, fanno informazioni lì e con anche delle iniziative, Paolo Di Greg, Morissan e altri, come anche Pandora TV, ha capito che qua viene censurata, quindi si è data da fare per un'altra cosa, qui o mai, sempre in mano a questi qua, ti censurano subito, anche io adesso, più presto passerò su una piattaforma mia, nel senso che, sperando che poi viene dal TV, appunto, nel senso che io sono stupo di queste censure, che poi sono censure idiotiche, a mio avviso arbitrarie, e non sono per nulla, ma dico per nulla liberale come vogliono far cadere loro, anzi sono staliniste secondo me, stalinista autolini, o maoiste, come vuoi chiamarle tu, prego. Eh, bella tragedia dico, perché comunque per quelli che si professano con le lancine. Ecco, poi non parliamo di quelli che vengono minacciati di morte, eh, giusto? Sì, sì, e io ne so qualcosa, qualche volta mi è capitato, non so tu, non so tu. No, io forse qualcuno l'ha fatto, non mi ricordo, forse, ma penso di no, ma a parte il fatto che loro fanno così, ogni mezzo per scheditarti, poi ci sono i guastatori, ci sono... No, loro parlano di false notizie, di fake news, quando loro... Sì, sì, loro dicono agli altri ciò che sono loro. Sì, basti pensare alla CNN in America, ma non dico in Italia quali tipi di giornali, non faccio nomi, però sono particolarmente di parte e cercano di... No, sono per il sistema e contro di noi, in Italia abbiamo una stampa principale, che ho già detto io, che è assolutamente antinazionale. Antipatriotica. Sì, sì, e sono, parliamo di tre medie importanti, oltre... Cioè, per la carta stampata, le corazzate antinazionali per eccellenza, che sputano veleno, per non dire di molto peggio, tutti i giorni, carta che fanno un gravissimo danno anche per la natura, per la carta... Ambientale. Ambientale, esatto, cioè a parco della sera, la stampa repubblica, che è una vergogna che in Italia, abbiamo altri giornali di questo tipo, che sono melmose del poco. Poi abbiamo anche l'attribuzione di Stato, che è una gran parte dell'antinazionale, e anche le reti mediasette, purtroppo, circolano gente del cavolo. Sì, infatti io ho guardato la RAI, non ha detto nulla sullo sbarco dei 148 clandestini dalla Open Arms a Palermo, in Sicilia, oggi. Cioè, c'è il silenzio elettorale anche sull'immigrazione clandestina, perché da domani si vuota, giusto? Sì, sì, e si illudono, se si illudono che scambia qualcosa, ma in realtà non cambierà niente. No. È tutto un buon avvento, un guadagnare tempo per rimporci ancora più restrizioni sulla nostra libertà e anche, purtroppo, sul nostro saluto. Sul nostro futuro. Si vogliono impossessare della nostra vita e vogliono decidere loro quando è fatto di morire. Hai capito? Voglio qui parlare del piano Soros del 2015 sull'immigrazione. Lui stesso ha pubblicato una sorta di saggio, minisaggio, con degli obiettivi. Si immagina di redistribuire in tutta Europa almeno di un milione di clandestini all'anno in tutto il territorio europeo, questo del 2015. Vuole, per esempio, una quota di 15.000 euro annui per i primi due anni a ogni clandestino per mantenerlo e farlo stare bene in Europa. C'è, di fondo, un progetto. L'Italia è, secondo me, ricattata. Ti do denaro a debito e tu, in cambio, sei la porta aperta, spalancata dell'Africa al Medio Oriente in Europa. Scusa, Luca Scenco l'ha detto chiaro e tonto come stanno le cose, no? Sì, ho visto il video con Edoardo Gagliardi, la diretta. Ah, Luca Scenco è stato molto chiaro, no? Quindi di cosa parliamo? Tutto qua. Niente, caro, carissimo Patrick, allora, io se permetto di farvi qui perché siamo già andati a tre quarti d'ora. Eh, il tempo è ora. Sì, purtroppo sì, ma anche perché andiamo troppo lungo, poi va a finire che il video non lo vediamo. Eh sì, perché è troppo lungo e purtroppo è così. Però tu puoi intervenire ancora quando vuoi, non c'è problema, quindi possiamo continuare questo discorso e possiamo anche parlare di altro, se tu vuoi, proprio so che ti senti di parlare, propaga fra i tuoi amici e i tuoi iscritti di questo canale, dili che c'è anche Telecroce normale, senza uno e due, ma che abbiamo 130 passavideo importantissimi, molto importanti comunque, e così ci aiutiamo perché io non devo passare più presto a una piattaforma privata, quindi spero che... Televisione? Sì, sì, sì. A un canale? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Italiano, diversa gente, spero che fra loro sia il vostro obiettivo, c'è uno in Piemonte che sta lavorando molto bene su questo punto, a breve dovrebbe darmi una risposta, spero che ce la faccia, insomma siamo molto molto vicini ad una soluzione, quindi io spero bene, quindi ti diavolo ogni bene e ti aspetto per un altro video, bravo, sei molto preparato, visto, insomma, questo tema, poi insomma, tu parla anche inglese, giusto? Me la cavicchio, ma è sempre meglio, spero. Quindi cosa parlo, italiano, un po' inglese, inglese, tedesco anche, no? No, tedesco no. In inglese sì, però. Sì, sì, ha un B2 avanzato. Bravo, 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 bravo. Grazie per lo spazio, Ubaldo. No, no, ma sicuramente, i tipi come te, di spazio quanto ne volete, cioè, anzi tu conosci altre persone che stanno in Ungheria, che volessero intervenire su questo tema, anche su altri temi, anche se sono degli ungheresi, che magari non parlano bene l'italiano, con te poi tu casomai traduci quello che lui non potrebbe dire, insomma, l'italiano dico, cioè lo possiamo anche invitare a qualcuno, poi tu, anzi, io invito a te, ma anche tutti quelli come te, che più gente che conoscete, più gente che sa, come volessi dire, qui troverete lo spazio che volete, io ve lo concedo con grande arpetto, con grande partecipazione, tutto qua. Allora, ti ringrazio e alla prossima. Ciao, carissio. Ciao, ciao. Ciao. Stanto un'attimo, stanto un'attimo, non dar via, comunque stai un'attimo. Grazie a chi ci ha ascoltato anche.